Siamo qui con Gallo Dell'Ido, star 1-1 al termine della partita col Cimbissone. Avete dominato il primo tempo, nel secondo tempo hanno giocato meglio loro. Occasiona una parte dall'altra un punto per parte. Partita decisamente un po' sotto tono nel secondo tempo da parte nostra, ci siamo molto abbassati, però tutto sommato un pareggio per la neopromossa va anche bene. Insomma avete iniziato molto bene all'inizio della stagione, avete vinto 4 delle prime 5 partite, avete preso 3 punti su campi molto difficili come ad esempio quello dei Boys. Nidro Star cosa punta quest'anno? Inizialmente alla salvezza, visto che siamo una neopromossa, poi tutto quello che viene è tutto di guadagnato. Insomma avete mostrato molte qualità, quali sono le vostre qualità migliori che esprimete in campo? Le nostre qualità migliori sono giocare palla a terra, abbiamo dei bui piedi, un buon allenatore ci insegna a giocare a pallone e tutto il resto viene da sé. Ok, grazie mille e buon proseguimento di stagione. Grazie, buona serata.